Cari amici, buongiorno e bentornati. Oggi andremo a scoprire un modello particolare, diverso dai soliti Jogokin a cui siamo abituati, ma che vi assicuro non ve li farà rimpiangere perché siamo davvero ai livelli di un vero e proprio Jogokin. Sto parlando di un Lego e in particolare vi parlo di Voltron, il difensore dell'universo che vedete ritratto in questa bellissima minifigure. Come vedete è assolutamente dettagliata con tutti i dettagli che richiamano il nostro amato robot componibile. Vedete ai piedi i colori e le teste dei leoni blu e giallo. Le mani sono le classiche clip delle minifigure Lego, ma questa volta sono a foggia di teste dei leoni rosso e verde. La testa, come potete vedere, è protetta da una sorta di casco con la foggia del leone nero. Ad arricchire infine questo stupendo modello ci sono le ali rosse e la splendida spada fiammeggiante che è impugnata nella mano destra di Voltron e riprodotta in maniera veramente fedele a quella vista nella serie animata. Con queste splendide immagini è tutto, vi do appuntamento a una prossima video recensione qui su Robots Kingdom. Lasciatemi un like se questa video recensione vi è piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie. Naturalmente stavo scherzando, non è questo l'oggetto della nostra video recensione di oggi, ma sarà il nostro bellissimo Voltron interamente costruito in mattoncini Lego. Questa è una semplice minifigure che si trova a pochi euro su ebay o sui siti di vendita online. La si può trovare veramente con pochi euro ed era una piccola rappresentazione di Voltron che è veramente molto graziosa e fa davvero piacere averla in collezione. Ma bando alleciange, andiamo a vedere il nostro stupendo Voltron difensore dell'universo. Adesso sì che abbiamo qui davanti a noi il vero modello di Voltron. Questo è un modello acquistato sul sito di Lepin, quindi non originale, ma ritrae perfettamente il set prodotto da Lego un paio di anni fa per l'appunto che è il set originale Lego che ritrae il nostro Voltron. In questo caso la Lepin, chiaramente essendo una copia identica in tutto e per tutto, ha voluto chiamare questo prodotto Ares Armor proprio per raggirare ed evitare problemi con i diritti d'autore della Lego e del marchio Voltron. Come vedete questa costruzione è formata per l'appunto proprio da cinque leoni che sono divisi, sono trasformabili e sono mobili, infatti sono assolutamente snodabili e giocabili ad uno ad uno. Inoltre la particolarità di questo modello è che proprio i cinque leoni sono trasformabili, come vi farò vedere nel corso di questa video recensione, e sarà possibile combinarli per formare il mitico Voltron difensore dell'universo. Andiamo a vedere adesso uno per uno i nostri cinque leoni e vi voglio far vedere, come vedete dalle immagini li ho arricchiti con cinque bellissime minifigure che ritraggono i cinque piloti di Voltron, ognuno vicino al proprio leone. Anche queste sono minifigure non ufficiali, assolutamente apocrife, che si possono acquistare con pochi euro su internet nei vari siti di e-commerce. E niente, ho voluto arricchire questa splendida costruzione, omaggiare il Voltron arricchendo questa costruzione con le cinque figure dei piloti. Come vedete le nostre cinque minifigure che rappresentano i nostri cinque piloti della Voltron Force sono perfettamente ricreate e ritraggono assolutamente tutti i particolari che per l'appunto richiamano i cinque personaggi visti nella serie animata con le loro divise variopinte nei cinque colori che contraddistinguono il personaggio. E niente, tutte cinque sono dotate di una basetta espositiva, una pistola laser come vedete qui, il casco è dotato della visiera azzurra, come vedete sono stati riprodotti tutti i vari decori che si trovavano all'interno, cioè nella serie animata, come il diadema sul casco del personaggio che era forse un pulsante che faceva calare la visiera del casco, la chiave sul petto di ogni singolo pilota che poi serviva proprio per attivare i vari leoni e per proprio attivarli e poter accedere ai comandi e tutti i richiami dei colori con la V caratteristica sul petto di queste divise che erano per l'appunto richiami alla serie animata. Queste minifigure, come vedete, hanno i volti, sono color carne, non sono gialle come le solite minifigure di Voltron, scusate di Lego, che dire, ognuna di esse ha un'espressione diversa proprio per richiamare le caratteristiche dei vari personaggi. In questo caso questa è la minifigure che ritrae Kate, leader del gruppo della Voltron Force, che era quello più deciso e più solerte in battaglia e quindi ha questa espressione così seriosa, ma poi le andremo a vedere una per una insieme al relativo leone. Andiamo a vedere quindi i singoli leoni nelle loro caratteristiche. Partiamo quindi dal nostro leone numero 5, il leone giallo, pilotato da Hank, che era il pilota del gruppo della Voltron Force più robusto e più forte. Ce lo ricordiamo con il suo carattere allegro, sempre insieme a Pidge nelle loro disavventure che rendevano la parte comica della serie animata, era molto spesso rappresentata da questi due personaggi. Il leone giallo era presentato in tutta la sua bellezza con le classiche forme che contraddistinguevano per l'appunto questo leone, perché ricordiamoci che i cinque leoni non avevano la stessa forma, avevano forme diverse sia per quanto riguarda il corpo che per quanto riguarda la testa e anche per quanto riguarda i vari dettagli, le armi che potevano avere ognuno di essi. Vedete che il leone giallo ha davvero dei colori splendidi, questo giallo ci ricorda assolutamente quello visto nell'anime e soprattutto i vari modelli che via via nel corso degli anni sono stati creati per rappresentare il robot Voltron. Tutte le caratteristiche del leone giallo, come questa striscia rossa al centro del corpo, le due ali, questi due ali che sono poste sul dorso del robot nella parte posteriore, il cannone tipico di questo robot, che era un cannone orientabile in questo caso, è possibile fargli compiere una leggera escursione. La bocca del leone ha la mandibola apribile, come vedete, mettendo da parte un attimo il nostro Ankh, vedete come le zambe di questo leone, come del resto le zambe di ogni leone di questa rappresentazione di Voltron, sono snodate e possono essere posizionate in maniera diversa e in varie forme per poter far assumere al robot leone, in questo caso, diverse pose. Anche la coda frammentata in tre parti è snodabile e movibile. veramente una bellissima rappresentazione di questo leone, che forse era uno dei miei preferiti, perché veramente aveva questi colori molto belli che mi ricordavano i colori di una tigre, con questo giallo così tendente all'arancione, queste due ali dietro sul dorso, e questo cannone, e questa forma così bella, mi ha sempre ricordato quella di una tigre e me l'ho fatto preferire, diciamo, rispetto agli altri leoni sin da quando ero piccolo. Vedete che anche in questo caso, come in tutti gli altri leoni, come vedremo, ci sono molti richiami, molti pezzi, diciamo, con dei colori particolari, come il naso che ha questo tassello colore argento. Come vedremo nel corso della recensione, tutti i leoni e il robot di Voltron avranno delle parti colorate così, in maniera molto bella, e saranno delle parti, dei pezzi veramente speciali, come anche questo decoro su questa placchetta rotonda, che rappresenta i punti di snodo, diciamo, delle zampe che sono decorati con questa decorazione particolare. Il leone blu era il leone numero 4 ed era il leone pilotato dalla principessa Aurora. Inizialmente questo leone era pilotato dal pilota Sven, che era il quinto elemento della Voltron Force, che nelle prime puntate viene gravemente ferito dalla strega Agar e viene portato su un altro pianeta per ricevere le cure. Quindi viene sostituito dalla principessa Aurora alla guida del leone blu, che si dimostra coraggiosa e sempre pronta ad aiutare gli altri elementi della Voltron Force. Il leone blu era il leone che rappresentava l'elemento acquatico, infatti era, diciamo, quando non veniva utilizzato, veniva parcheggiato, tra virgolette, riposava sul fondale di un lago nei pressi del castello dei leoni. Questa costruzione, questa rappresentazione del leone blu è davvero molto bella, è ben riuscita, il leone blu è rappresentato nelle forme, così come l'abbiamo visto nella serie animata e anche nelle rappresentazioni dei vari giocattoli di Voltron. Ha questi richiami, come al solito, questa fascia rossa sul corpo che spezzava un po' la colorazione monocromatica blu. Le zambe, anche esse, in questo caso sono mobili, possono assumere pose diverse. Anche in questo caso la mandibola del leone è mobile e tutte le forme del leone sono richiamate perfettamente. La coda, anch'essa, snodabile in tre parti, vedete perfettamente il numero 4, tutte queste decorazioni con i numeri, come anche nel leone di Anche, nel leone giallo, che nel numero 5 sono affidate a degli adesivi che sono stati applicati sul mattoncino relativo che doveva alloggiare questa decorazione. Veramente molto bello, ben fatto, ha un certo peso, poi li andremo a pesare singolarmente i leoni e anche poi nella costruzione finita del nostro Voltron. Il leone verde è il terzo leone, il leone numero 3 della Voltron Force, quello che va a comborre il braccio sinistro di Voltron, pilotato dal piccolo ma coraggioso Pidge, che era il bimbetto del gruppo della Voltron Force, che spesso insieme ad Anche, il pilota del leone giallo, era protagonista di siparietti simpatici e comici che servivano a sdrammatizzare un po' le tematiche spesso drammatiche del cartone animato di Voltron. Il leone verde, dicevamo, forma il braccio sinistro del Voltron, infatti, vedendo da vicino questo modello, vedete che il leone, come il leone rosso, anche il leone verde, ha questo snodo centrale sul corpo che va a piegarsi sia a destra che a sinistra, proprio perché lui, essendo il braccio di Voltron, può piegare, diciamo, il gomito che è rappresentato da questo snodo, proprio per andare a piegare il braccio. Inoltre, un altro snodo nella testa di questi due leoni è questo, che può, staccando una parte delle due ball joint che reggono la testa, può abbassare e alzare la testa. Se si vanno a incastrare, comunque, si può anche piegare la testa in questo modo, con questa lieve escursione, sia verso il basso che verso l'alto, proprio per ricreare la possibilità di una mano di potersi muovere e alzare l'impugnatura di eventuali armi. Anche questi leoni che compongono le braccia hanno la coda snodabile, chiaramente sono di dimensioni più piccole rispetto a quelli che formano le gambe, e hanno le zambe chiaramente snodabili e muovibili, in maniera tale da poter far assumere al leone diverse pose. In questo caso gli ho dato questa posa, diciamo, accovacciata, come se fosse un gatto seduto. Dicevamo, a differenza del leone rosso, il leone verde aveva le forme del corpo un pochino più stondate, più tondeggianti, rispetto a quelle del leone rosso che erano invece più squadrate. Questo arriva a dire il fatto che ogni leone aveva la sua forma e non erano tutti uguali. Vediamo il personaggio di Pidge, il nostro piccolo amico Pidge, che era, diciamo, il bambino occhialuto, come vedete anche nella minifigure, il ritratto con i suoi occhiali. Al solito tutti i dettagli della tuta e della divisa del pilota sono stati riprodotti fedelmente, e questo è il nostro leone verde. Il nostro penultimo leone è il leone numero due, quello rosso, che va a comporre il braccio destro di Voltron, quindi quello che andrà poi ad impugnare la spada fiammeggiante, ed era pilotato da Lenz. Lenz che era il ragazzo più impulsivo, quasi un po' la testa calda del gruppo dei cinque protagonisti, che rappresenta perfettamente l'elemento che contraddistingueva il leone che pilotava. Infatti il leone rosso era, diciamo, legato all'elemento del fuoco. Infatti quando non veniva utilizzato dal proprio pilota, veniva conservato all'interno delle fauci di un vulcano, quindi immerso nella lava. Infatti era l'unico leone a termico in grado di poter resistere a temperature elevatissime, proprio come quelle della lava. Quindi questo caratterizza perfettamente il carattere un po' impulsivo e, diciamo, impetuoso del pilota che lo guidava. Lenzi, insieme a P.G. anche, era spesso anche lui protagonista di qualche siparietto divertente e simpatico nella storia, però era anche un personaggio che aveva la sua importanza, dimostrava sempre il suo coraggio ed era sempre il primo a buttarsi nella mischia in battaglia. Come vedete, le forme del leone rosso sono differenti da quelle del leone verde in quanto sono più squadrate, ha questa forma del corpo più squadrata. Anche lui, come vedete, come tutti gli altri leoni, ha dei pezzi speciali colorati in argento, le parti di questi scudi decorate. e poi c'è il numero due, appunto, riportato sulla schiena del robot e questi sono i colori classici del leone rosso. In questo caso, le mandibole dei due leoni che compongono le braccia non si aprono, rimangono fisse, ma al loro interno hanno dei pezzi che servono per fare alloggiare i manici delle due armi che, come vedremo, andranno a impugnare formando il Voltron. Anche questo ha la coda snodabile. Vedete l'hands con la sua divisa azzurra. Ora, permettetemi una piccola divagazione parlandovi delle divise dei piloti di Voltron. Allora, i piloti della Voltron Force hanno, come avete visto, ognuno delle divise di colore differente. Solo nel caso di Hank e di Pidge il colore della divisa coincide con il colore del leone. Nel caso dei tre protagonisti che erano Lance, Sven e Kate, i colori della divisa erano invertiti, perché Kate era chiaramente il leader e quindi, essendo Voltron derivante dal cartone animato di Goliath, che quindi era una serie giapponese, come al solito, al leader venivano assegnati i colori simbolo del Giappone che sono il bianco e il rosso. Sven, che era il pilota del leone blu, aveva la tuta di colore nero e Lance, che era il pilota del leone rosso, aveva la tuta di colore blu. Quindi vedete che i tre colori erano assolutamente invertiti. Cosa è successo? Io credo che nella serie regolare di Goliath e di Voltron questi colori erano assegnati assolutamente a caso, mentre nella nuova serie di Voltron, quella trasmessa su Netflix negli ultimi anni, si è cercato di dare una spiegazione a questo discorso delle divise, perché il personaggio di Sven, che aveva la tuta di colore nero, in questo caso era chiamato Shiro, in questa serie, e pilotava, era il leader del gruppo, e pilotava però appunto il leone nero. A Kate toccava il leone rosso e aveva la tuta di colore rosso, e a Lance toccava il leone blu e quindi aveva la divisa di colore blu. Che succede? Anche in questa serie il personaggio di Sven o Shiro viene ferito, e quindi è costretto ad allontanarsi dal gruppo della Voltron Force, e quindi avviene una sorta di switch, di slittamento, quindi Kate dal leone rosso passerà al leone nero, Lance dal leone blu passerà al leone rosso, e alla fine la principessa andrà a prendere, come nella serie classica, il posto al comando del leone blu. Quindi, in questo caso poi viene spiegato attraverso questo espediente di questo slittamento di ruoli, il discorso delle divise. Inoltre, una piccola particolare che ho molto apprezzato nella storia del nuovo Voltron è il fatto che questi leoni erano chiaramente delle macchine, ma per essere pilotati ed essere attivati entravano in sintonia con i piloti, quindi se il pilota non riusciva ad entrare in sintonia con il proprio leone, e il leone non lo riconosceva come suo diciamo pilota e come suo padrone, allora il leone non si attivava. Questa è un po' una particolarità, infatti si capisce poi perfettamente che, per esempio, il leone rosso che era il leone più impavido, più pronto a gettarsi nella mischia e più diciamo dal carattere più impetuoso e più impulsivo veniva per l'appunto a riconoscere poi successivamente Lance come suo pilota perché per l'appunto i due caratteri andavano a coincidere. Ed ecco a voi il nostro fantastico leone nero rappresentato in tutta la sua possenza nella sua imponenza. Sappiamo come al solito il leone nero è quello nelle rappresentazioni ludiche di Voltron che è quello che ha le dimensioni maggiori perché deve per forza di cose formare il corpo centrale del robot le spalle e le cosce del robot quindi è chiaro che deve per forza di cose raggiungere dimensioni maggiori rispetto agli altri leoni e spesso gli conferiscono queste dimensioni gli conferiscono queste forme un pochino diciamo pesanti e in questo caso più che un leone mi sembra un orso ma il leone nero anche in questo caso è rappresentato in tutta la sua la sua bellezza la sua imponenza e la sua possenza vedete i vari richiami sul dorso del robot ci sono le ali pieghevoli che poi andranno a spiegarsi per formare le ali di Voltron questi due decori sulle spalle ruoteranno per andare ad ingrandire e arricchire la decorazione centrale del petto di Voltron il numero uno sulle spalle del robot e questo altro piccolo decoro affidato come sempre a un adesivo vedete che le orecchie del robot poi andranno a formare le corna prendosi le corna di Voltron e anche in questo caso qui sul naso e poi vedremo sul petto del robot sul diadema ci sono delle parti argentate anzi ve le faccio vedere subito come vedete qui ci sono tutto il contorno del diadema del robot ricreato in maniera perfetta con la croce dorata e la coroncina dorata sull'estremità superiore e il contorno di questo simbolo araldico è formato da mattoncini argentati così come la cintura è formata da mattoncini argentati e decorata con la stella tipica della cintura di Voltron poi vedrete nel corso della trasformazione che è veramente identica a quella che avveniva nel cartone animato anche in questo caso ci sono ancora dei pezzi dalle colorazioni speciali come questi scudi dorati come vedete vi dicevo le ali che sono ripiegabili pieghevoli perché proprio come viste nel corso della serie animata il leone il leone nero risiedeva quando era a riposo su una colonna antistante il castello dei leoni nella prima puntata in cui il leone non si trovava o meglio non si trovava la chiave per attivare questo leone che poi era custodita da dei topolini all'interno del castello vediamo che il leone nero era racchiuso all'interno di una statua di pietra che raffigurava per l'appunto un leone alato come quello di san marco per intenderci e poi questa costruzione in pietra nel momento in cui kate riesce ad attivare con la sua chiave il leone nero viene sbriciolata si distrugge e rivelando al suo interno il per l'appunto il leone nero che rimarrà lì ogni volta che non veniva utilizzato proprio a simboleggiare e a rappresentare la difesa del pianeta arus e del castello dei leoni da parte di Voltron devo dire che la serie di Voltron era davvero una serie molto bella e la caratterizzazione che gli hanno dato la produzione americana nella storia ha veramente dato un piccolo contributo in più rispetto a quello che era Voltron nella serie di Goliion però di questo ne parleremo magari in occasione di un'altra video recensione in cui vi farò vedere il GX71 il modello di Voltron di Bandai vedete il pilota Kate con la sua livrea rossa che era il leader del gruppo un leader molto carismatico molto serio un personaggio molto serio che era sempre manteneva questo carattere molto responsabile molto serioso rispetto agli altri che invece davano diciamo vita delle scene anche spesso comiche ed era sicuramente il paladino del castello dei leoni e del pianeta Arus andiamo a pesare adesso uno per uno i nostri cinque leoni mettiamo la bilancina in posizione va benissimo allora partiamo dal leone numero 5 il leone giallo sono 305 grammi 304 grammi il leone blu dovrebbe avvicinarsi di molto a questo peso anche se forse c'è qualche mattoncino più o meno infatti sono 303 grammi differisce solo di 1 o 2 grammi poi andiamo al leone numero 3 che è il leone verde e sono 136 grammi e 142 grammi 143 grammi il leone rosso un pochino più cicciottello alla fine pesiamo il nostro bestione leone nero sono 631 grammi capite bene che qui sul leone nero c'è tanta tanta roba tanta tanta carne a fuoco quindi che dire adesso andiamo a formare il nostro voltron e vi faccio vedere la trasformazione di questo bellissimo modello nel mitico voltron adesso prepariamoci per la trasformazione di voltron quindi i piloti andranno a salire sui loro rispettivi leoni pronti per formare il mitico voltron ready to form voltron activate interlocks dinotherms connected infracel up mega thrusters ed ecco qui il nostro mitico voltron creato dalla combinazione dei nostri cinque leoni in tutta la sua possenza e in tutta la sua imponenza veramente una costruzione molto bella molto solida alta e imponente dalle dimensioni veramente imponenti come vedete fa fatica ad entrare nella sua interezza all'interno dell'inquadratura lo andiamo a misurare vedete che il nostro voltron all'altezza massima che è quella delle ali misura 46 centimetri e mezzo 46 centimetri e mezzo quasi 47 centimetri di altezza per un peso che andiamo a pesare questa volta non è come il gundam che le cui dimensioni erano davvero così imponenti da non poterlo neanche poggiare sulla bilancia vedete che il nostro voltron pesa la bellezza di un chilo cinquecento diciassette grammi veramente tanta 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 roba il nostro voltron è veramente una costruzione splendida imponente solida non tende a diciamo a non stare in piedi o ad avere bisogno di un supporto per rimanere in piedi perché è veramente molto imponente il peso è bene equilibrato tra le parti quindi sicuramente da qui si vede il fatto che questo anche se il mio la mia copia è un una copia della lepin ma comunque ricreata in tutto e per tutto sulla base di quello lego quindi è una figura ufficiale un set ufficiale lego sicuramente questo la dice molto sul fatto che la progettazione di questa costruzione sicuramente è fatta a come lego vuole quindi con tutta una serie di criteri che gli garantiscono stabilità posabilità anche se molto limitata però sicuramente non ha bisogno come vedete di alcun sostegno di alcun diciamo braccio che serva per sostenere tutto il peso della struttura veramente molto bello come vedete ricrea il nostro volto in maniera molto fedele alla serie animata molto bella i colori rispettati sono rispettati i colori della serie animata e del robot che tutti noi conosciamo e amiamo la trasformazione come vedete è identica a quella vista nell'anime e non solo soprattutto in fase di trasformazione sembra di avere davvero tra le mani il choco king di voltron o comunque un giocattolo reale di voltron perché come vedete le zampe dei leoni e vengono diciamo ripiegate su loro stesse così come in tutti i modelli che abbiamo di voltron e niente davvero davvero stupendo spero che vi piaccia e che riesco a rendervi il attraverso il video le mie sensazioni di di soddisfazione e di entusiasmo che ho nei confronti di questo modello e all'interno di questa confezione vi faccio vedere che sono vi sono un libretto di istruzioni che è un vero e proprio volume molto molto ricco sono infatti 155 pagine nella nel set originale praticamente ogni leone ha un suo libretto di istruzioni e poi ce n'è un altro libretto che serve per il la le istruzioni dell'assemblaggio finale nel robot voltron come vedete invece in questo caso le nostre istruzioni sono raggruppate in un unico volume in questo caso come vedete qui la scritta del nome del robot e ares armor e non voltron ma la grafica del della scritta è la stessa così come la grafica dell'intero libretto è assolutamente identico a quello originale lego le varie parti dei singoli leoni erano racchiuse al solito all'interno di bustine trasparenti numerate in modo da facilitare l'individuazione dei vari pezzi nelle varie fasi di trasformazione come vedete sono tutte a colori sono tutte illustrazioni fatte a colori che ritraggono i vari passaggi della trasformazione e niente e poi c'è la parte finale che ritrae per l'appunto la trasformazione dei leoni per poterli combinare come vedete dalle immagini in nel robot voltron e inoltre oltre a questa a questo libretto è chiaro che voltron deve avere le sue armi quindi sono state rigreate in massoncini lego anche la splendida spada fiammeggiante di voltron come la vedete ve la ricordate con la sua tipica forma di tridente delle parti argentate delle placchette argentate che gli rendono una colorazione più brillante e metallica e l'elsa particolare che aveva anche questa diciamo parte che serviva a proteggere il la mano del robot quando la impugnava e oltre a questa abbiamo anche uno splendido una splendida rappresentazione dello scudo di voltron tutto argentato con questo decoro a forma di croce vedete che dalla parte posteriore c'è l'impugnatura per poterlo fare impugnare al leone verde e tutte queste lame diciamo queste questi raggi della stella perché è davvero sembra una stella sono mobili veramente molto 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 bello tutto è stato ricreato nei minimi particolari proprio per rendere questa figura somigliante alla sua controparte animata e per non valere di piangere davvero alcun modello di voltrono andiamo a fare impugnare quindi nel caso dello scudo basta prendere e adrezzare i vari raggi poi si possono posizionare nelle varie posizioni che si vuole vedete come il nostro voltron ha le braccia che possono essere come vi facevo vedere prima mosse così e anche i gomiti possono ruotare e a loro volta anche la mano all'occorrenza può diciamo essere posizionata in questa maniera o anche più in su vedete che quell'alloggio che vi facevo vedere prima all'interno della bocca del robot lo vedete qui così servirà proprio per fare per fare in modo che possa essere inserita questa impugnatura qui è sempre avere a che fare con una costruzione lego e andarla a muovere è sempre molto delicato seppure vi ripeto che questa splendida costruzione davvero solida e non ha non lascia segni di cedimento però a me è capitato anche di purtroppo tra spostandolo da un posto a un altro mi è capitato di doverla diciamo mi è capitato che si fosse staccato qualche pezzo e quindi sono stato costretto ad andarlo a ricostruire vedete come impugna perfettamente il suo scudo e adesso il leone rosso andrà ad impugnare la sua spada fiammeggiante vedete che la spada ha questa impugnatura nell'elsa andiamo a staccare questa parte e a questa parte togliamo questo diciamo questo pezzo cilindrico di qui e andiamo ad infilare da una parte la parte superiore della spada qui ecco qui e anche questa parte nella parte inferiore dell'alloggio all'interno della bocca del leone così e richiudiamo questa parte a protezione del della bocca del leone ed ecco qui il nostro voltron che impugna le sue armi pronto per sferrare l'attacco finale con la sua spada fiammeggiante contro il nemico ragazzi veramente è una cosa bellissima una costruzione stupenda sembra di avere un gioco tra le mani e dalle dimensioni veramente imponenti e niente veramente sono soldi ben spesi per chi ha la passione del collezionismo robotico e per chi ama le costruzioni lego che dire è veramente non finirò mai di decantare i pregi di questa costruzione è un orgoglio averlo in collezione e niente il prodotto originale lego all'uscita di questo set costava intorno alle 170 euro io avendolo acquistato con l'epin mi è costato 70 euro il robot più circa una ventina di euro per la spedizione direttamente dalla cina però devo dire non ho avuto problemi di dogana di sdoganamenti vari e quindi che dire mi sono portato a casa questo splendido modello in tutto e per tutto identico a quello originale lego vi devo vi posso garantire che il prodotto lepin è davvero identico in tutto e per tutto a quello lego quindi se non siete fissati con il discorso dell'originalità in questo caso essendo prodotti lego i set di lepin vanno più che bene a livello di progettazione di struttura di mattoncini di qualità dei singoli pezzi vanno benissimo sono identici al 100 per cento a quelli lego e quindi andreste sicuramente a risparmiare sui prezzi che lego propone che certe volte per certi set vanno a raggiungere cifre davvero importanti e onerose quindi che dire ragazzi questo è il nostro voltron io adesso vi saluto davvero vi ringrazio per questa per la vostra attenzione per avermi dato il modo di raccontarvi questo bellissimo modello di voltron vi invito a iscrivervi al canale a lasciarmi qualche commento sulle vostre impressioni riguardo a questo modello su quello di cui mi volete parlare e niente ci vedremo sicuramente alla prossima vi do un piccolo anticipo io sto lavorando a un progetto legato alle costruzioni lego quando finirà sarò lieto di farvelo vedere intanto vi lascio un piccolo anticipo di questo mio progetto però non lo dite nessuno ciao e alla prossima ragazzi dimenticavo di dirvi una cosa importantissima venerdì 26 alle ore 21 ci sarà una premiere sul mio canale di robos kingdom in cui avrò il piacere di celebrare insieme a voi un anniversario molto particolare che andrò a farvi scoprire via via nel corso della settimana quindi non perdete questo appuntamento rimanete sintonizzati per avere la possibilità di non perdere nessuno dei miei appuntamenti perché veramente sarà una serata molto bella in cui ci sarà anche la possibilità di poterci conoscere ancora meglio e quindi familiarizzare ancora di più sul mio canale vi ringrazio vi aspetto quindi oltre agli appuntamenti regolari venerdì 26 alle ore 21 qui su robos kingdom ciao e alla prossima c'è un gran castello nella contea di camelot